Allora parliamo di un aereo che è in direzione Inghilterra della Ryanair, ma questo non c'entra che ospitava tra gli altri alcuni ragazzi che andavano a festeggiare un addio al celibato adesso va di moda che ti fai magari due o tre giorni con gli amici più cari a festeggiare il futuro sposo e cosa fai in quei giorni? I maschietti si ubriacano, si ubriacano di solito ci si ubriaca magari la sera No, loro sono partiti già belli carichi hanno cominciato a bere prima della partenza poi sono saliti sul volo e hanno incominciato a chiedere qualcosa alle hostess quando il tasso alcorico era decisamente alto le hostess hanno deciso di non dare più da bere e cosa succede quando tu non vuoi dare a bere a degli assettati? Ubriachi marci che questi incominciano con l'aereo in volo ad urlare, sbraitare e fare cori addirittura uno si è spogliato e nudo e ha incominciato a correre urlando voglio da bere risultato sono atterrati praticamente a Berlino e hanno scaricato con multe e tutto quello che ne consegue questo gruppo di scalmannati eh vabbè dai succede, succede in realtà fra poco devo fare un addio al celibato fortunatamente non andiamo lontano e vi porterò qualcuno di Astemio dietro salutiamo Andrea, benvenuto nel gruppo del Density Time che posta una bella foto di qualche anno fa mamma mia, almeno 15 anni fa in memoria dei vecchi tempi io non ci sono però c'è c'ero nel senso che ero in console di sicuro probabilmente l'ho fatta io la foto eh sì che l'ho fatta io salutiamo anche Gianluca buongiorno Gianluca, ben sintonizzato allora stavo vedendo è arrivata una foto bellissima sul gruppo Facebook del Density Time perché oltre a Daniela all'ascolto c'è anche una cagnolina stupenda guardate, andate a vedere il post fammi vedere com'è che si fa aspetta, dov'è, dov'è tac 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 lo so che non si può vedere in radio però volevo, avevo chiesto così la salutiamo per bene, no? allora, perché non trovo le cose? fammi scartabellare in diretta ok tac tac come si fanno vedere gli altri messaggi archiviati? vabbè, me lo son perso, lo recupero dopo questo è il DDTA salutiamo anche Marco e Marco che si ascoltano ciao Mauro, anche oggi siamo all'ascolto ma solo se ci saluti in onda ma certo Marco Marzi e Marco Scarica ma certo che vi saluto se anche tu vuoi partecipare al pomeriggio radioattivo puoi farlo via sms al 349 005 3965 numero valido anche per Whatsapp oppure su Facebook nel gruppo Facebook del Density Time